Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione scelta! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! di un'agricoltura che ci uniscono e che ci dividono da altri, completamente, è così, perché oggi siamo ad un bivio, siamo alla scelta del tipo di agricoltura che vogliamo avere per il futuro. Io voglio avere un'agricoltura più forte, anche indipendentemente dalle organizzazioni, che non dipenda dall'organizzazione, in cui l'organizzazione svolga solo un ruolo di creazione dell'ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese e non voglio imprese agricole piccole, minoritarie, che dipendano dall'organizzazione per la propria sopravvivenza. Da qui al 2020 noi dovremo decidere che tipo di agricoltura vogliamo. Poi c'è l'welfare agricolo, che è il presidio del territorio, i boschi, ma questo non può avere la prevalenza sull'attività e la crescita del nostro settore. Io l'altro giorno ero a Fruit Logistica, a Fruit Logistica c'era il meglio dell'ortofrutta italiana, il meglio in termini di ingegno, innovazione, tradizione, tutto un mix assieme. Ma i paesi del Mediterraneo, della sponda sud del Mediterraneo, Marocco, Egitto, guardate che sono altrettanto bravi. Allora io mi sono stufato di dirci fra di noi quanto siamo bravi. Occorre mettere, diciamo così, un po' più di concretezza in quello che facciamo. E io penso che, assieme ad Aprognano, ma assieme anche alle altre organizzazioni dei terzisti, se lo vorranno, io vorrei poter favorire e assieme costruire un modello di relazione diverso. Io vi faccio solo un esempio. Le organizzazioni non sono lì per creare solo il meccanismo della contribuzione. Confagricoltura ha creato una nuova legge che si chiama rete d'impresa. Non è una legge, in verità. La rete d'impresa è la possibilità per diverse imprese agricole, o contotersisti o agricole contotersisti, di rimanere indipendenti economicamente, ma mettersi assieme per un qualcosa che permette di avere un'assunzione unica. Assume la rete d'impresa e i dipendenti migrano fra le aziende senza bisogno di tante assunzioni. La rete d'impresa si candida ad avere le risorse dei piani di sviluppo rurale. È un'innovazione legislativa. Se le organizzazioni di rappresentanza entrassero nell'ottica non difensiva, ma di creare nuovi strumenti legislativi adatti ai tempi, questo permette di avere la possibilità di fare investimenti e di gestire per esempio il personale in maniera diversa. È qualcosa che viene dall'industria, non abbiamo inventato niente, l'abbiamo adattato al sistema. Ognuno rimane a casa propria, ma per un determinato obiettivo ci si mette assieme in quella che viene riconosciuta giuridicamente come un nuovo soggetto che è la rete d'impresa. Rete d'impresa che possiamo collegare con la rete che anche il nostro Ivano Malmori ha messo insieme con Agronotizia, Imagine Line, da molto tempo cerca di far comunicare l'agricoltura con i software che vengono messi sul mercato. Allora, facciamo una breve, Ivano, che tu sei un esperto di rete, no? Si parla di rete d'impresa. Tu cosa puoi fare per le reti d'impresa dell'agricoltura italiana? Questa è impegnativa, cosa posso fare io? No, puoi aiutare le reti d'impresa, cosa puoi fare? Partiamo da una considerazione, qui siamo tra imprenditori, stiamo scoprendo sempre di più che l'agricoltura è fatta da imprenditori che devono arrivare sul mercato. Per arrivare sul mercato bisogna essere organizzati e bisogna lavorare bene, scegliendo e facendo opportune scelte. Una scelta da parte degli imprenditori può essere quella di farsi aiutare dai contotersisti e questa è una scelta imprenditoriale. Una scelta da parte dell'imprenditore è quella di conoscere bene quello che sta facendo, quindi avere una consapevolezza del controllo dei costi di produzione, di tutto ciò che sta facendo all'interno dell'azienda e qui ci può aiutare la rete perché attraverso delle procedure informatiche, siete dentro a uno stand di Agri Linea Image Line dove si parla molto di quaderno di campagna, attraverso queste procedure si riesce a rintracciare tutto quello che viene fatto in campagna e scoprire quanto ci costa produrre, quindi vedere la produzione in un'ottica imprenditoriale. Un quaderno di campagna in rete potremmo definire. No, è proprio, nasce come quaderno di campagna in rete con l'obiettivo di raccogliere queste informazioni. Quando l'imprenditore raccoglie queste informazioni, oltre a conoscere meglio cosa sta facendo e quanto spende per farlo, ha un'opportunità che è molto interessante e che pensa molto agli imprenditori, che è quello di comunicare col consumatore. Un ragionamento molto semplice, se tutti noi siamo qua oggi, lo dobbiamo in particolare a chi compra il prodotto finale, che è il consumatore. Quindi il consumatore dovrebbe capire sempre meglio quello che viene fatto in campagna, conoscere sempre di più il prodotto, quindi avere la possibilità di vedere la faccia dell'agricoltore e sapere come ha prodotto. Se l'imprenditore agricolo è un imprenditore, vuole far vedere come produce, vuole utilizzare la rete per comunicare. Noi cosa possiamo fare? Possiamo mettere a disposizione delle procedure informatiche che permettono di creare trasparenza nei confronti dei consumatori e fiducia tra il consumatore e il produttore. Ma ci stiamo già lavorando. La rete di imprenditori, prego. Io volevo aggiungere, mi spiace che l'onorevole De Castro è andato via, volevo aggiungere un paio di cose. Intanto quello che ha detto Mario Guidi sul discorso degli imprenditori, della burocrazia eccetera, il discorso contro terzisti non è solo, a mio avviso, e questo l'ho pensato quando sono stato invitato qua, da accompagnamento proprio per quello che ho detto prima sulle macchine più nuove, sulle attrezzature più nuove eccetera, ma viene anche di supporto e di grande supporto nella purtroppo sempre più evidente piaga dei furti in campagna. Per cui molti imprenditori non possono più acquistare, non hanno la forza di acquistare le nuove macchine, attrezzature e quindi si rivolgono ai conto terzisti e quindi devono rivolgersi al conto terzisti che sappiano fare il proprio lavoro, ma questo non basta. C'è di più, il conto terzista su indicazioni economiche può anche fare abbattere i costi, perché se io devo acquistare una macchina che non ammortizzo, è chiaro che il mio costo finale annuo è superiore a quello rispetto al quale che posso avere io affidandomi a un conto terzista. Volevo anche aggiungere due cose, una purtroppo la volevo dire all'onorevole De Castro, la dico a chi ascolta e uno al Presidente Tassinari. Noi come Regione Sicilia, come Federazione degli Agronomi, io è solo da tre mesi che sono insediato in questo ruolo, visto i ritardi della Regione Siciliana e tutte queste cose, per fortuna una volta tanto ne posso godere di questo. Abbiamo dato indicazione due lunedì fa all'assessorato con 29 punti per semplificare, sburocratizzare e velocizzare tutte le pratiche del PSR, perché non ne possiamo più veramente. Il Presidente Guidi mi ha visto un anno e due mesi fa esporre a ciolo su un malloppo di carte infinito, adesso sono nelle condizioni di poter quantomeno orientare all'amministrazione e a fine aprile, cercando un'interlocuzione con l'assessorato, spero di poter presentare la prima pratica Bancomat come idea all'amministrazione della Regione Siciliana. Però quello che chiedo al Presidente Tassinari è, visto che siamo in questa fase di discussione in Sicilia molto arretrata, ma che a me fa grande comodo perché finalmente non troviamo il piatto pronto, ma ce lo costruiamo, spero che ce lo facciano costruire. Se ha delle indicazioni da dare sul tema PSR come contoterzisti, ha qua un interlocutore che si propone davanti a tutti di interagire con la Regione Siciliana. Se poi qualcosa di questo diventa innovativa e la possiamo anche trasferire a livello nazionale, io sono ben contento, ma per la Regione Siciliana come Federazione Regione degli Agronomi mi impegno davanti a tutti, qualora ci dia delle indicazioni che possiamo cercare di fare inserire, io sono prontissimo. Grazie. Direi che qui su queste sedi possiamo siglare un patto di collaborazione. Ma io vorrei aggiungere anche questo, per quanto concerne il contoterzista, ma tra le tante cose mi rammentavo i contratti di filiera, ad esempio abbiamo dei contoterzisti che fanno i contratti di filiera con la barilla per la fornitura di grano e via di seguito, cioè è polivalente il contoterzista, fa i contratti di affitto dei terreni per poter produrre determinate terrate, cioè è un personaggio che nell'ambito dell'agricoltura deve mantenere il suo ruolo, però deve avere il colloquio costante con l'agricoltore. Non può in nessun modo, e purtroppo ne abbiamo avuto anche qualche piccola esperienza negativa, essere in contrasto con l'agricoltore. Assolutamente no. Per quanto riguarda credo la Sicilia o il Meridione in generale, abbiamo diverse opportunità e credo che nella Sicilia ci sia una grande, anche per quanto riguarda le vendemmiatrici, soprattutto di fare un certo tipo di azione col contoterzismo, ma organizzando il contoterzismo, perché in molti casi, il Meridione un po' lo conosco, la Sicilia in particolare, sono abbastanza, usando una parola forse non troppo appropriata, cani siolti, invece vanno organizzati e su questo ci impegniamo qui di fronte a tutti. Bene, allora noi abbiamo rimasto qualche minuto ancora, dobbiamo ringraziare anche Giovanni Lavia che ci ha mandato un saluto, doveva esservi con noi, ha mandato una bella lettera a disposizione anche dei giornalisti che vogliono ritirarla, penso che Arianna sarà a disposizione, l'ufficio stampa di Uncai potrà dare visione, poi anche il nostro Fabrizio Nardoni, che rappresenta l'unione di tutti gli assessorati dell'agricoltura, quindi il nostro assessore ci dice un apprezzamento per il contributo e il riconoscimento centrale del ruolo dei contoterzisti nel settore primario, leggo qualche riga qua e là, aperture strategiche e sostegno. Beneficio e assegnazione dei fondi comunitari, delle risorse, naturalmente non dovete portare via le risorse all'agricoltura, ma abbiamo capito che a date... C'era bene come uccidere il bambino. Poi anche Giovanni Lavia doveva essere con noi, oggi ci dice che questo è una rappresentanza, cambiano i tempi, quindi abbiamo bisogno di grande professionalità. Riconosco nella nuova sfida che oggi con questo Uncai volete portare avanti, non si può negare oltre il ruolo del tassello importante della filiera produttiva agricola. Superare le logiche di campanile e riconoscere nella diversità dei ruoli, quindi questa è una lettera che poi naturalmente molto lunga, non ve la sto leggendo per problemi di tempo. Volevo concludere col CRA, anche perché parliamo ai cono terzisti, abbiamo una platea di cono terzisti e il CRA che lo sta facendo per la meccanizzazione. Eccolo qua il microfono. Sì, dunque il CRA si occupa di ricerca in campo agricolo e in particolare noi lavoriamo sui cereali. L'idea nasce dalla necessità di rispondere ad un imperativo che è sempre più pressante, cioè quello di produrre di più spendendo di meno. È un imperativo che è valido in tutti i settori, dalla ricerca alla produzione. Nel caso dei cereali una delle problematiche, del grano in particolare, una delle problematiche principali è legata al controllo delle erbe infestanti. È uno dei temi della tecnica culturale che l'agricoltore si trova ad affrontare durante la stagione di crescita. Cosa abbiamo fatto? Dal punto di vista varietale il nostro centro è una tradizione e quindi sviluppa varietà di frumento duro da oltre un secolo. L'esigenza è quella di creare delle piante che abbiano un'efficienza maggiore nell'uso dell'acqua e delle risorse nutritive. Purtroppo è un tipo di ricerca che ha bisogno di tempi lunghi. Per cui abbiamo deciso di affrontare questa problematica mettendo appunto un sistema nuovo di semina dei cereali che prevede uno stravolgimento di quella che è la classica modalità a righe dei cereali, cambiando il sesto di impianto delle piante in campo. In questo modo mantenendo la stessa dose di semina noi riusciamo a garantire alla pianta una maggiore abilità competitiva nei confronti delle infestanti. Abbiamo diversi anni di sperimentazioni condotte e nell'ipotesi migliore ci permette di annullare completamente il diserbo. Quindi nelle aziende che fanno cerealicoltura questo è un vantaggio. Considerate che un trattamento per il controllo delle infestanti varia da un costo che si aggira intorno dai 50 ai 100 ai 120 euro ad ettero. Se considerate che in Italia ci sono 2 milioni di ettero di frumento mi sembra che è qualcosa... Allora per avere informazioni di questo come possiamo rintracciarvi? Il centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia che è un centro del C.R.A. Bene, allora è la Pasquale De Vita, la ringraziamo per questo suo contributo. Io vorrei concludere con il nostro Presidente. Presidente, noi dobbiamo portare il reddito all'agricoltura italiana, a prescindere dai gruppi. Noi dobbiamo fare il sistema, lei diceva, stiamo insieme per portare il reddito alle imprese italiane che ancora oggi faticano a stare in campagna. Più che noi, in senso generico, portare il reddito all'agricoltura, deve essere l'agricoltura che diventa capace di prendersi il reddito. Sembra la stessa cosa, però non è così. Il prossimo periodo di programmazione, 2014-2020, va considerato l'ultima possibilità di costruire un'agricoltura all'altezza delle sfide e dei mercati che ci sono. Il mondo vuole prodotti agricoli italiani, li chiede sempre di più, la bilancia commerciale è sempre di più in positivo, però siccome non li trova compra quelli tedeschi. C'è un grande mercato, ci sono 60 miliardi di euro di contraffazione, non sono una negatività, sono un'opportunità. Va ricostruito un modello di agricoltura che punta sulla capacità produttiva e che punta sulla tecnologia. La tradizione di oggi è l'innovazione di ieri. Se non siamo capaci di puntare queste risorse su un vero modello di impresa agricola che sia orientata al mercato, che sia orientata all'innovazione, noi non ce la faremo mai. L'ultimissima battuta sul rapporto tra Confagricoltura, Associazione dei Terzisti e tutte le altre associazioni. Qui non è tanto il tempo di giocare più, mettiamola così. Abbiamo poco tempo per costruire quegli strumenti che ci consentono di essere veramente più competitivi. Competizione è una parola abusata. C'è un collegato alla finanziaria che si realizzerà nel giro dei prossimi due o tre mesi. È il momento per introdurre tutti quegli elementi di novità che consentono alle imprese agricole e a quelle agromeccaniche che sono imprese industriali, artigiane, ma hanno la sfortuna di lavorare con gli agricoltori. Allora, dobbiamo far sì che la normativa sulle imprese artigiane che lavorano in agricoltura sia più coerente con i sistemi agricoli. Si possono cambiare le regole di gioco? Stiamo sempre fermi su quello che c'era, su quello che non si può fare. Io mi sono stufato di difendermi, chiudo così. Vorrei per una volta attaccare, io mi ricordo il dottore, vi faccio solo questa scena, duemila forconi, dove eravamo? A Catania? Trappolone fatto da un politico a mio carico e a carico degli altri miei colleghi in una pala lottomatica di Catania. Trappolone non gli è riuscito come hai visto perché mi hanno anche applaudito, diciamo, perché avevo capito la sala com'era. Però il signore si è appalesato al palco con una borsa di cuoio da cui ha tirato fuori il piano di sviluppo rurale della regione Sicilia. Era un pacco di carte alto così. Io l'ho rifatto quattro mesi fa all'Academy di Confagricoltura. Un piano di sviluppo rurale di una regione italiana sono duemila pagine, dieci chili di carta. Ma come volete che facciamo? Ma l'altro giorno, l'altra sera, mi manca il 50% dei contributi PAC. Me ne hanno mandato il primo 50%, adesso c'è la seconda trans, l'altro 50%. Io vengo da Ferrara. Mi chiamano da Confagricoltura Ferrara, Presidente, la sua domanda è bloccata perché non ha fatto la dichiarazione antimafia. Benissimo, vado in camera. No, una grande innovazione. Basta una mail. Adesso io le mando una mail in cui mio padre ha dichiarato che mia madre, cioè sua moglie, non è una mafiosa. Per fortuna non è stato il contrario che non sono altrettanto sicuro che mia madre avrebbe firmato. Ma a parte questo, c'è scritto sotto tre righe che dicono attenzione perché se dichiari il falso rischi di andare in galera. Ma se sono un mafioso che paura ho? Allora, ma non vedete questo paese come si è ripiegato su se stesso in queste stupidaggini? Io perderò un mese perché mio padre deve dichiarare che mia madre non è una mafiosa. Oltre a dover dichiarare io che mia figlia di 19 anni, che è maggioreenne, non è una mafiosa. Signori, bisogna che lavoriamo di quanto non abbiamo fatto fino ad oggi. Bene, con questo noi abbiamo terminato questa nostra breve presentazione. Se ci sono delle domande, il Presidente è a disposizione per rispondere a qualsiasi inquisito che possano porre i nostri conotertisti. Noi purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo dei tempi da rispettare. Presidente, allora in bocca al lupo per la sua nuova associazione. L'Uncai sarà sicuramente di successo come sempre. Grazie soprattutto dell'ospitalità. Grazie a voi. Bene, grazie. Noi vi salutiamo, ridiamo la linea alla regia di Bologna, poi dopo la riprendiamo tra cinque minuti perché dobbiamo continuare con un altro, diciamo, convegno che poi è un talk show dedicato all'agricoltura sostenibile. Una battuta finale, dicevi? Sì, era rapidissima. Io ho dovuto fare di più. Come sa, produco agrumi da agricoltore e ho dovuto dichiarare che non faccio e non ho fatto sofisticazione enologica. Non ho mai avuto una pianta di vite. Bene, con questo abbiamo terminato. L'idea al studio. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv Grazie a tutti.